Ora innanzitutto il Green Pass, chi contesta e ci sono manifestazioni in giro per tutta l'Italia e il Green Pass dice ma come tu mi dai la libertà di non vaccinarmi e poi sono obbligato ad avere il Green Pass per fare qualsiasi cosa? Ecco, questo ragionamento è fasullo perché non si può dire che esiste un diritto di non vaccinarsi un diritto esiste semplicemente una situazione di fatto nella quale la legge non dice nulla sull'obbligo o non obbligo, quello generalizzato siamo in una sfera per ora dell'indifferente giuridico in questa sfera interviene una legge che dice non che hai l'obbligo ma che hai un onere, dicono i giuristi cioè se tu vuoi fare una certa cosa allora devi fare quest'altra ecco, non si viola nessun diritto si regola un aspetto in quella sfera che per ora è giuridicamente irrilevante e il legislatore può fare quello che vuole in vista di un interesse di natura pubblica com'è la salute l'isaka